Per mantenere a distanza di sicurezza la zona play-out Chieti in campo contro l'ultima e già retrocessa Aurora Alto Casertano. Lo stadio Angelini dove Alessandro Lucarelli può finalmente tornare a disporre di tutti i suoi giocatori. Uno di questi è Luca Fabrizi, di nuovo titolare al centro dell'attacco dopo lo spezzone di Tolentino. Al suo fianco c'è El Wasni per scardinare la difesa campana per inciso la peggiore di tutto il Girone F. Il Chieti attacca alla ricerca del gol del vantaggio ma c'è subito un cartellino giallo sventolato da Francesco Aloisi al diffidato. Gianmarco Bassini al rientro da un lungo stop salterà il derby con il Pineto di mercoledì. Ad ogni modo insiste il Chieti con questa penetrazione di Cristiano Verna che trova l'opposizione di Manuel Vitiello. La respinta del portiere che non può però davvero nulla su Luca Fabrizi. Quando le sfide non si sbloccano ci pensa lui sotto la curva. 1-0 del Chieti, la squadra di Lucarelli e avanti. La gioia di Fabrizi in un incontro non così semplice come indicherebbe la classifica. Il tentativo ad opera di Francesco D'Innocenzo anche se l'Aurora Alto Casertano si propone spesso, soprattutto sulle fasce qui, un autentico prodigio. Di Forti sulla girata di Lepri quasi allo scadere del primo tempo Campani per nulla arrendevoli e che con le immagini di Alberto Capo provano ancora ad affondare, costringendo così Forti ad intervenire una seconda volta sul fronte opposto. Il tentativo ad opera di Manfredo Pietrantonio che centra la traversa Pietrantonio che dopo l'intervallo era entrato in campo al posto di Bassini. Ma serve un altro gol al Chieti per correre i rischi, lo sa bene anche Fabrizi che prova a mettere il lucchetto alla partita con questo colpo di testa, indirizzato sul palo alla destra di Manuel Vitiello. Tutto semplice quando il pallone raggiunge il bomber del Chieti. L'ennesimo sigillo per un attaccante completo che vede la porta come pochi. 2-0 ad un Aurora Alto Casertano che però non si arrende. Mancino vuole il gol, la sua squadra testa alta, sempre a caccia del 2-1 che non arriva nemmeno sul colpo di testa di Mema. Quindi è Luasni nel contropiede del Chieti che fallisce il gol del 3-0 ma può bastare così. Il Chieti ottiene una vittoria fondamentale contro un buon Aurora Alto Casertano. I neroverdi allo stadio Angelini si impongono 2-0. Secondo me abbiamo bisogno ancora di altri due punti e quindi non possiamo assolutamente o due pareggi o una vittoria e oggi l'avete vista la partita, ci avevamo tutto da perdere. Queste sono le classiche partite, tutto da perdere. Loro erano diverse partite che avevano fatto gol, la vastessa ci aveva vinto alla fine e quindi un po' di apprezzione. Forse potremmo giocare un po' più tranquilli, tra virgolette, anche se noi è meglio che non ci stiamo tranquilli. Però credo che ci abbia bisogno di altri due punti almeno per poterci salvare. Lui ha saputo cogliere l'occasione, l'altra partita mi sembra in casa, adesso non ricordo con chi, ha fatto una buonissima partita a Tolentino, ordinato, disciplinato, piano piano sta entrando sempre di più nella mentalità, ha fatto un bel percorso pure oggi, secondo me è una buonissima partita e di questo siamo solo contenti. Lui se lo merita perché dall'inizio non è stato sempre con noi, un po' ai margini, però sempre nel campo di allenamento a dare il massimo. Quindi è un giusto premio per un ragazzo che comunque ha delle qualità e deve solo adesso lavorare e mantenere i piedi per terra perché è fondamentale che questi ragazzi mantengono tutti i piedi per terra. Ma Luca, il suo grande merito è quello di essere in crescita, ha fatto un percorso l'anno scorso, è migliorato tanto, lui sa fare come caratteristiche tecniche, sa fare un po' tutto, cioè lui sa col piedi di testa, sa stare sotto porta, ha un bel tiro, si muove bene, secondo me per la categoria sta diventando un giocatore veramente, veramente importante perché è un giocatore completo, non eccelle proprio da 10 a nessuna cosa. Lui è un 7,5-8 su tutti i fondamentali tecnici. Questo significa che col tempo può ancora crescere. Lui si sono dei giocatori che maturano un po' più tardi e lui sta facendo questo tipo di percorso. Ma è un giocatore potenzialmente anche da categoria superiore? Secondo me noi ne abbiamo diversi che potrebbero, però devono deciderlo loro. Cioè questo passa per tutti i giorni di allenamento, passa per l'alimentazione, passa per la professionalità, quindi fare dei sacrifici, perché fare il calciatore non è così, ha i suoi vantaggi, perché c'è tanta ribalta sulle televisioni, sui giornali, però poi se vuoi veramente arrivare, se lui adesso si ferma, e io dico sempre, comincia a pensare e non fare, rimette tutto in discussione. Secondo me come lui ce ne sono altri che possono fare qualcosa di più.